Oggi è il primo settembre e ufficialmente il primo giorno di Silviembre. Che cos'è Silviembre? Allora, no, non è una autocelebrazione, però nasce l'anno scorso, quando per il mio compleanno ho in qualche modo inventato questo nome, che è l'unione tra settembre, che è il mese del mio compleanno, e il mio nome, Silvia, quindi Silviembre. L'anno scorso è stato utilizzato così a caso il primo giorno del mio compleanno, ma quest'anno ho voluto dargli un nuovo significato. Settembre per me è sempre stato un mese di grandi cambiamenti, probabilmente perché io ho cambiato casa molto spesso a scuola, ma anche l'inizio della mia vita nei nuovi posti. E quest'anno non è da meno, come sapete oggi, nel futuro, da quando lo sto filmando, mi sono trasferita a Milano, oggi effettivamente sarà il mio primo giorno, quindi yay, yay, e comincia la mia vita. In questo video non vi dirò che cosa farò, o che cosa ne sarà della mia vita, ma è soltanto una breve introduzione per spiegarvi in che cosa consiste Silviembre. Silviembre è un nome, un hashtag se volete, per ispirare e motivare al cambiamento. Esiste un momento nella nostra vita in cui bisogna decidere di apportare un cambiamento, e spesso ci serve proprio uno stimolo, spesso è inizio lunedì, inizio a gennaio, dopo le vacanze, dopo le feste, c'è sempre un punto, un momento, che si definisce, che si decide per cambiare la propria vita e cercare di stare meglio. E vorrei, mi piacerebbe, condividere con voi questo mio momento, ma anche che questo momento diventasse vostro. Quindi per questo ho esordito dicendo non la mia autocelebrazione, perché Silviembre vorrei che diventasse un po' un movimento motivante, anche per voi, per decidere di cambiare la vostra vita, per decidere di finalmente fare quel cambiamento che da tanto magari vi tirate dietro, o sul quale rimuginate da tanto tempo. Che sia l'avvicinarsi al mondo del fitness, alla palestra, al mangiare sano, ma anche soltanto cercare di essere una persona più organizzata, studiare di più, essere più predisposta, essere più solare nella vita, insomma, qualunque cosa voi volete apportare come cambiamento nella vostra vita, questo è il vostro mese, questa è la vostra motivazione, fatelo. Iniziate con me, facciamoli insieme e facciamo che questo mese sia il nostro mese. Ci saranno tanti video in cui cercherò di darvi dei consigli, o comunque cercare di motivarvi a cambiare, ma anche cercare di guidarvi su come cambiare, cosa fare per cambiare, perché non è così semplice e così immediato. Quindi preparatevi perché io sono stra-eccitata. Spero con questo video di avervi incuriosito. Noi ci vediamo nei prossimi video. Silviembre è arrivato. Ciao ciao!